ora che eccomi qua aero fai cassino con microfono bro ragà voglio giocare contro cicce devo trovare una partita contro cicce mamma mia come si dice non bisogna mai arrendersi per favore oggi ho fatto una data quella col cecchino esagerato bambini stavolta oh ho trovato l'amma oh ho trovato l'amma mia aero aero C'è bene il jack dei buffetti da tutti gli abbi Ma se stessi provare? Un vero ha trovato una cassettina Speriamo che uscirà qualcosa di decensi Cadroia Oh tutte mitragliette Ma che è sto gioco baggato Anche un pompa Andà qui un'altra mitraglietta qua su Andà un'altra mitraglietta ancora No raga non è possibile Oh Bella Non l'ho rifiuto mai Ecco te lo ridò Andiamo andiamo Ah vieni 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 qua Vieni 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 c'è me a titolo Let's go player No raga non vi preoccupate Non fa niente chi non può spamare Comunque le persone che rimarranno più in live Raga li farò in Eccoli cosa Hanno qua questi bastardi Non ci credevo Non ci credevo regal Nice Guarda qui Ok ecco l'ho ucciso uuuh suq 1 dietro al cazzo BAM! Oh, sei partato Ma non mi fa costruire a me Bella Bella No Ma vai costa No è morto Ma mia Que dolor Tranquilo E' quella di dietro la vetra Mi servono medici Mi servono bot di medici Guarda eccolo lì guarda Eccolo lì guarda Eccolo lì guarda Ma questo è scappa sempre Dove cazzo sta andando? Ma che cazzo Ma che sfizio di merda ci sono Grazie Non 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 ce non Ma questo è quello che è È pittà bello sto sostando una bella cecchinata mamma mia bravissimo wow mf una si ah mi salivo tanto bravo 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 yi non è bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi questa è l'ultima di lui yes no no se l'ha rubata 11 bomb bitch 11 bomb dai bella ragazzi